Detassazione e welfare aziendale, Fisaskat, Filcams e Wiltux siglano con Federalberg e Faita l'intesa nel comparto turistico ricettivo, valorizzato il ruolo della contrattazione e della partecipazione dei lavoratori. Tra i neri colte le opportunità fornite dalla legge di stabilità 2016 anche in preparazione di una riforma complessiva dei contratti che contemplino non solo salario ma benessere sociale. Naspi, i sindacati, sollecitano la revisione della normativa per i 300.000 stagionali del turismo e del comparto termale e chiedono un incontro al Ministero del Lavoro e al MIBACT. Guarini, bene potenziamento intervento 2016, necessario correttivo strutturale per gli anni a venire. Appalti pulizi a scuole, il governo convoca i sindacati, sospesa la mobilitazione del 18 ottobre, confermato lo sciopero del 14 novembre. Guarini, il tavolo, individuo in assoluzione di prospettiva occupazionale e salariale per i 13.000 addetti ex LSU e degli appalti storici. SNAI Rete Italia, siglato l'accordo quadro nazionale sulle cessioni di ramo d'azienda, Fisaskat, preservate le condizioni economiche e normative per i 110 addetti coinvolti, scongiurati licenziamenti illegittimi. Oper Bingo, la società controllata di Codere Italia, annuncia la ristrutturazione, 152 i lavoratori coinvolti dalla procedura di mobilità. I sindacati proclamano lo stato di agitazione, Fisaskat, presupposto intesa e ritiro licenziamenti unilaterali. Formazione sindacale prosegue al Centro Studi CISL di Fiesole, il ciclo dei seminari congiunti Fisaskat-Ancl, lavoro e welfare contrattuale, il let motive della terza sessione di aggiornamento 2016. Per la rubrica internazionale scalo a Dublino con Unicommerce Global Union, con la nostra rubrica dei territori faremo tappa in Trentino, Campania, Puglia e Sicilia. Bentornati al TG Lab. È intesa tra i sindacati di categoria Fisaskat, Filcams, Wiltux e le associazioni imprenditoriali del comparto turistico ricettivo Federalberghi e Faita in materia di detassazione e welfare aziendale. Le parti potranno sottoscrivere a livello decentrato un accordo finalizzato all'accesso ai benefici fiscali previsti dalla legge di stabilità 2016 sulla detassazione del salario di produttività, redditività e qualità nelle strutture ricettive, con facoltà di conversione in prestazioni, beni e servizi di welfare aziendale. Soddisfazione in casa Fisaskat, l'intesa raggiunta con le uniche associazioni al momento firmatari e del rinnovo contrattuale di settore valorizza ulteriormente il ruolo della contrattazione e della partecipazione dei lavoratori che potranno così beneficiare degli sgravi fiscali e cogliere le opportunità offerte dalla legislazione vigente in materia di welfare anche in preparazione di una complessiva riforma dei contratti che dovranno contemplare non solo salario ma benessere sociale ha dichiarato il segretario generale della categoria Pierangelo Raineri A poche settimane dal varo del decreto correttivo al Jobs Act i sindacati rilanciano sulla necessità di definire una soluzione strutturale per i 300.000 lavoratori stagionali del comparto turistico e termale che solo per il 2016 potranno beneficiare del potenziamento del sussidio di disoccupazione dimezzato per importo e durata Fisaskat, Filcams e Wiltux hanno chiesto un incontro al Ministero del Lavoro e al MIBACT sollecitando la revisione strutturale della normativa in vista del dibattito parlamentare sulla legge di bilancio per la Fisaskat che ha commentato positivamente la tutela introdotta con il recente decreto legislativo sarà necessario definire una correzione strutturale la Naspi così come concepita penalizza fortemente i lavoratori stagionali del turismo e del comparto termale ha stigmatizzato il segretario nazionale della categoria Davide Guarini sarà necessario supportare i lavoratori di comparti cardini della nostra economia dove la stagionalità è un fenomeno strutturale anche prevedendo un ruolo attivo della bilateralità di settore ha concluso il sindacalista Spiragli nella vertenza dei 13.000 ex LSU e dei cosiddetti appalti storici impiegati nei servizi di pulizia e decoro delle scuole il governo ha convocato per il 18 ottobre l'atteso tavolo istituzionale previsto dall'intese più volte sollecitato dai sindacati di categoria Fisaskat, Filcams e Will Trasporti finalizzato ad individuare soluzioni strutturali volta al mantenimento dei livelli occupazionali e salariali dei lavoratori coinvolti è quindi sospesa la manifestazione nazionale unitaria indetta dalle tre sigle per il 18 ottobre prossimo mentre è confermata l'azione di sciopero proclamato per il 14 novembre auspichiamo che il tavolo di confronto finalmente convocato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri possa individuare una soluzione definitiva e scongiurare circa 7.500 licenziamenti attivati nel frattempo dalle imprese che operano negli appalti di servizi di pulizia e decoro delle scuole in mancanza di garanzie sulla prosecuzione del progetto Scuole Bella in scadenza il 30 novembre prossimo ha dichiarato il segretario nazionale della categoria Davide Guarini risegniamo opportuno comunque non abbassare la guardia il 14 novembre rimane confermata l'azione di protesta programmata per supportare i lavoratori dei servizi in appalto stremati dalle incertezze sul futuro ha concluso il sindacalista svolta positiva nella vertenza dei 110 dipendenti delle 16 agenzie SNAI Rete Italia dislocate in provincia di Milano, Monza, Brianza, Bologna, Perugia e Palermo coinvolti dalle cessioni di ramo d'azienda avviate nelle scorse settimane dalla società di scommesse e concorsi a pronostici i sindacati di categoria FISASCAT, FILCAMS e Wiltux hanno siglato con la direzione societaria l'accordo quadro nazionale sui trasferimenti preservando le medesime condizioni economiche e normative per il personale in cessione al quale SNAI Rete Italia liquiderà le competenze maturate l'intesa demanda a livello decentrato il confronto sulla valutazione di eventuali soluzioni alternative ai trasferimenti presso i cessionari anche attraverso la ricollocazione in altre agenzie della rete SNAI che presentino fabbisogne di organico per la FISASCAT l'intesa raggiunta che conclude formalmente la fase sindacale di consultazione scongiura possibili licenziamenti illegittimi e assicura la prosecuzione dei rapporti di lavoro valorizzando il confronto decentrato la crisi del settore del gaming non risparmia il gioco del bingo la società controllata di codere Italia SPA o per bingo ha formalmente comunicato ai sindacati l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 152 dipendenti delle sale di Lecce Parma, Roma, Salerno e Viterbo FISASCAT, Filcams e Wiltux constatata l'indisponibilità societaria di individuare una soluzione non traumatica degli esuberi hanno indetto lo stato di agitazione in tutte le sale gioco le tre sigle hanno rispinto il piano sul recupero di efficienza e produttività proposto dalla direzione societaria attraverso la cancellazione dell'indennità di casse del premio presenza il blocco degli scatti di anzianità e il demanzionamento ed hanno stigmatizzato la pesante riduzione dei diritti individuali e il taglio dell'orario contrattuale di lavoro fino al 45% dichiarando la disponibilità ad una temporanea sospensione delle previsioni contrattuali preservando tuttavia l'inquadramento e le mansioni per la FISASCAT il presupposto per una intesa sulla chiusura della vertenza è la rinuncia di Operbingo a portare avanti la procedura di licenziamento collettivo ed individuare soluzioni condivise volta a intervenire sugli altri costi strutturali di gestione prosegue al centro studi CISL di Firenze il ciclo di seminari congiunti FISASCAT l'associazione nazionale dei consulenti del lavoro lavoro e welfare contrattuale il lecmotiv del terzo appuntamento formativo 2016 riservato a 50 partecipanti tra dirigenti e delegati della categoria CISLINA e consulenti del lavoro che ha in particolare approfondito i risvolti applicativi delle recenti norme su detassazione e welfare introdotti con la legge di stabilità 2016 e ha preso in analisi gli accordi raggiunti nella contrattazione di settore nel commercio, turismo e servizi ai lavori che hanno registrato la partecipazione del segretario organizzativo della FISASCAT Rosetta Raso e del segretario nazionale della categoria Davide Guarini ha preso parte anche Uliano Stendardi coordinatore del Dipartimento Politiche Settoriali e Contrattuali CISL i seminari proseguiranno il 29 e 30 novembre 2016 con la nostra rubrica internazionale Scalo a Dublino dove si è svolto il forum sul commercio elettronico promosso da Unicommerce Global Union e Unipost Logistics e Commerce la Sisa, la quale ha preso parte una delegazione FIST CISL ha analizzato le strategie del sindacato internazionale per fare fronte alla crescita del commercio elettronico in Europa e nel mondo e assicurare diritti e tutela ai lavoratori interessati dalle modifiche della struttura occupazionale sul sistema vendita e consegna merce commercio, informatizzazione e logistica saranno sempre in più interconnesse dal contempo si assiste ad una parcellizzazione della filiera distributiva per contenere i costi ha dichiarato il segretario generale della FIST Pierangelo Raineri presenta i lavori il sindacato deve essere in grado di organizzare e difendere tutta la filiera di distribuzione dell'e-commerce caratterizzata dalla precarietà dilagante e soprattutto di garantire ai lavoratori coinvolti pari dignità in termini non solo di retribuzione ma anche e soprattutto di protezione sociale ha concluso il sindacalista per la nostra rubrica dei territori prima tappa in Trentino dove i sindacati regionali di categoria Fisaskat, Filcams e Wiltux hanno indetto la mobilitazione dei 180 lavoratori della Coppa Alto Garda in seguito alla disdetta unilaterale della contrattazione integrativa comunicata dalla direzione della cooperativa di consumo tra gli elementi qualificanti dell'intesa siglata nel 2013 il premio di risultato su base mensile fino a 178 euro lordi la revisione siglata nel 2015 garantiva mediamente 104 euro di mensilità con la disdetta si cancella tutto viene anche revocato l'accordo di rilancio del 2015 hanno stigmatizzato le tre sigle in un comunicato congiunto dal 1 gennaio i lavoratori vedranno applicato solo il contratto nazionale di settore con buste paghi più leggeri e meno diritti prosegue la nota unitaria l'assemblea indetta per il 13 novembre deciderà eventuali iniziative di protesta e sciopero tappa in Puglia a Bari la Fisaskat territoriale ha rilanciato sulla necessità di applicare le norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli operatori addetti ai servizi di pulizia prevalentemente a contratto part time che da tempo auspicano in un miglioramento della condizione socio-economica ha dichiarato il segretario generale della categoria Cislina Miriam Ruta accendendo i riflettori anche sulla situazione dei lavoratori della cooperativa Auxilium che prestano servizio all'interno del centro di accoglienza richiedenti asilo dove, denuncia la sindacalista si registra un alto tasso di tubercolosi la Fisaskat di Bari ha sollecitato la stabilizzazione del personale certezze occupazionali nelle gare di assegnazione dell'appalto e una maggiore attenzione e responsabilità degli appalti considerati sensibili A Molfetta la categoria Cislina ha denunciato anche la situazione dei sei lavoratori della cooperativa sociale GEA addetti ai servizi di assistenza domiciliare per il comune presso il centro sociale polivalente per minori disagiati La Bussola ai quali è stato formalmente comunicato il licenziamento il comune di Molfetta non ha neppure risposto alla nostra richiesta di incontro per cercare eventuali soluzioni alternative ai licenziamenti ha stigmatizzato Luigi De Ceglie della Fisaskat di Bari denunciando la medesima situazione per i 12 addetti ai servizi di assistenza al centro disabili in appalto alla Metropolis tutto questo è dovuto al fatto che il comune ha nelzato il tetto dell'Isee per gli aventi diritto all'assistenza e di conseguenza il numero degli utenti è diminuito sensibilmente pertanto il comune ha danneggiato i cittadini fruttueri dei servizi e le famiglie dei disabili e lavoratori ha concluso il sindacalista Tappa in Sicilia dove la regione ha accolto positivamente la richiesta presentata dalla Fisaskat Sicilia sulle opportune verifiche ispettive da attivare per contrastare il crescente fenomeno del lavoro nero e sommerso nel comparto turistico un fenomeno che in Sicilia riguarda prevalentemente 25 mila lavoratori stagionali ha sottolineato il segretario generale aggiunto della Fisaskat Pancrazio Di Leo non dimentichiamo che chi ha un lavoro irregolare non matura neanche i requisiti per l'accesso alla Naspi ha stigmatizzato Di Leo auspichiamo anche su questo tema che il dibattito parlamentare apra ad una soluzione strutturale che riconosca nella sagionalità una peculiarità del lavoro nel comparto turistico a concluso Di Leo ci salutiamo vi ricordiamo che è possibile consultare il Tg Lab anche su Tgr Lab Facebook e Youtube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter at Fisaskat per segnalazione e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo email redazione tglab chiocciola Fisaskat.it grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana Sei un lavoratore stagionale del turismo? Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi hai diritto alla Naspi la nuova assicurazione sociale per l'impiego in vigore dal 1 maggio 2015 il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato la Fisaskat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione all'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio turismo e servizi www.fisaskat.it